Sindacati di base disoccupati e lavoratori sono scesi in piazza a Napoli per una manifestazione conclusa sotto la prefettura che ha chiesto tamponi e mascherine FFP2 gratis per tutti, denunciando come i costi delle misure di contenimento contro la pandemia ricadono tutti su lavoratori e soggetti economicamente fragili. Nelle rivendicazioni della piazza c'è l'esasperazione per una crisi sanitaria diventata ora anche economica. Gli organizzatori chiedono anche più controlli sui luoghi di lavoro ed un migliore servizio sanitario. La vaccinazione non può essere l'unica risposta. Fa emergere chiaramente un'incapacità da parte del potere di gestire questa pandemia, un ritardo storico che parte dalla sanità e non solo. Hanno avuto anni a questo punto di tempo per poter riaprire gli ospedali, mettere in sicurezza la pandemia, fare del recovery found un'occasione di lavoro. Invece io temo che se non c'è mobilitazione da parte della gente, se la gente non prende parola, questi saranno tutti i soldi che vanno ai soliti noti, a chi governa, ai loro amici, alle aziende farmaceutiche, a quanti altri stanno speculando su questa pandemia.